Aldo è quella che noi chiamiamo una RDP, una rinuncia di proprietà. Il cane che è stato preso da cucciolo, che ha allietato le giornate di questa famiglia, ad un certo punto è diventato troppo grande, troppo alto e non lo hanno voluto più. E lo hanno portato qui al rifugio. Un cane perfettamente abituato a vivere in casa e a vivere in famiglia? Assolutamente sì. Aldo non sporca il box, è abituato al contatto umano, è un giocherellone, affettuoso, molto educato. Come dicevo, lui essendo abituato a vivere in casa, ha vissuto in casa fino all'età di 4 anni, non sporca assolutamente il box, aspetta di uscire per fare i suoi bisognini. Com'è passeggiare Aldo visto che è un cane di grossa taglia? E ovviamente guinzaio e prestare molta attenzione, perché comunque è un bel cagnolone, grande, possente e quindi bisogna avere delle dovute accortezze. E il carattere? Dolcissimo, affettuoso, giocherellone, educato, per niente aggressivo, assolutamente. Va d'accordo con gli altri cani? Aldo è un maschio e potrebbe andare d'accordo con delle femminucce. Perché adottare Aldo? Perché Aldo più di tutti soffre il box, non è abituato, non è il suo ambiente, viveva a casa, su un divano e sui tappeti a giocare con i bimbi e adesso si ritrova solo, chiuso, in un box per la maggior parte della sua giornata.